Ma che dite, andiamo a tagliare i capelli? Mi sono rotto il cazzo di sti capelli lunghi, sapete? Ma perlomeno questi qua davanti, avevo visto il film di Johnny Depp con DiCaprio, c'era il bambino autistico E ho detto, sì, ma lui questi qua davanti c'è gli ha belli corti Sti capelli lunghi, dopo un po' anche basta Guardarli così effettivamente sono fighi lunghi E' che a volte sembra che c'è una pantegana in testa, quindi bisogna fare in modo che qualcosa Non l'avevo ancora comprato nessuno, poi l'hanno comprato, cominciato a svilupparlo, diventato mostruoso Ma all'inizio era, io penso che lo usavo insieme a Logic, collegato in Rewire Grazie